ma non facevate più bella figura a starvene a casa non facevate più bella figura ad andarvene a giocare l'europa league che era la coppa che avevate conquistato sul campo era quella la coppa che dovevate giocare vedete cosa significa andare a fare una coppa da abusini si vi siete intascati il bottino per la Champions League si però poi andate fuori al primo turno e io spero spero che riusciate a fare terzi perché dovete andare in Europa League non dovete essere eliminati non dovete rimanere senza coppe dovete andare a fare l'Europa League e giocare di giovedì sera perché quello è quello che dovevate fare quello è quello che il campo vi aveva predestinato e invece la giustizia sportiva l'amico Gravina e i movimenti dei pagliacci della FIGC avevano portato a questa attenzione ragazzi io lo ribadisco io non sono antimilanista io sono tutto tranne che antimilanista io ritengo il Milan l'unico avversario rispettabile in Italia e ritengo Juventus-Milan il vero derby d'Italia detto ciò questa coppa non la dovevate fare e quindi godo solo per questo perché io ho sempre tifato per voi in Champions League nonostante che voi so che avete sempre fatto il tifo contro la Juventus ma il Milan non mi sta sui maroni non mi è antipatico quindi non sto a pensare ai tifosotti da quattro solti io vado poi a confrontarmi con le persone intelligenti ma voi in Champions League lo dico da luglio non ci dovete stare non ci dovete stare perché non l'avete meritato la vostra Champions League vale quanto lo scudetto di cartone dei cartonati del 2006 quanto quello vale? qui è giusto che ve ne andiate in Europa League e dovete fare l'Europa League e giocare il giovedì e state dimostrando sul campo di non valere la Champions League state dimostrando sul campo sul campo che la semifinale dell'anno scorso è stata un puro caso dovuto a un sorteggio che faceva tutto parte tutto parte del patto tra Gravina e Ceferin quando Gravina ha venduto la Juventus il club più titolato d'Italia Gravina lo ha venduto a Ceferin Ceferin gli ha dato il posto di vicepresidente dell'UEFA gli ha dato la compartecipazione agli europei del 2032 e gli ha dato delle agevolazioni per gli italiani in particolare per i cartonati che continuano a rubare ogni partita anche ieri sera un rigore nel dubbio sempre a favore loro sempre a favore loro ormai di loro non voglio neanche parlare ma è il Milan è giusto che venga eliminato e si sta dimostrando che è una squadra adatta a giocare la Champions League basta stesso discorso per la Lazio che ha conquistato la Champions League sul campo che ha avuto due risultati uno più fortunoso dell'altro nelle prime due giornate in questa giornata ha preso una sbussa mica da ridere in quel di Rotterdam perdendo 3-1 con il Feyenoord e quindi Lazio che ora è terza Lazio che deve battere il Feyenoord e battere il Celtic in casa per passare il turno vediamo se sarà in grado di passare il turno ancora tutto nelle sue mani io onestamente in questa Lazio ci credo poco ci credo poco però lo ribadisco il Milan deve riuscire a fare il terzo posto e qualificarsi per l'Europa League fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fino alla fine contro tutto e tutti sempre e comunque Forza Juventus